Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, apriamo tornando a parlare dell'uomo che uccise la moglie malata con un colpo di pistola. Adesso è stata disposta la perizia psichiatrica. Sarà sottoposto ad una perizia psichiatrica Alessandro Sacchi, l'ottantenne, che lo scorso 21 giugno uccise con un colpo di pistola la moglie Serenella Mugnai, 73enne, affetta da qualche anno d'Alzheimer. Un delitto consumato all'interno dell'appartamento nel quale viveva la coppia in via Legiotto. Quella notte, a seguito di un banale bisticcio, l'uomo impugnò l'arma, ereditata dal padre ma mai denunciata e fece fuoco contro la moglie, poi avvisò i vicini e i soccorsi. Non ce la facevo più, avrebbe detto alla polizia, dopo l'arresto. Adesso il GIP del Tribunale di Arezzo ha disposto l'incidente probatorio su richiesta del PM Marco Dioni, un accertamento auspicato anche dai difensori dell'anziano Stefano Sacchi e Piero Melani Graverini. Spetterà così al dottor Massimo Marchi stabilire se l'ottantenne è in grado di partecipare al processo, se era pienamente capace di intendere voleri al momento del fatto e se è socialmente pericoloso. L'incarico per la perizia il prossimo 16 settembre. L'accusa per l'ottantenne è quella di omicidio volontario aggravato. Attualmente si trova agli arresti domiciliari nell'RSA Fossombroni in considerazione dell'età. Era stato scarcerato un mese dopo il delitto. È uscita dalla rianimazione e sembra insomma stare meglio la bambina di appena due anni che era caduta in acqua pochi giorni fa a Foiano della Chiana in una struttura ricettiva dove si trovava con i suoi genitori. Una buona notizia dunque che trapela dall'ospedale Fiorentino Meyer dove la piccola è attualmente ricoverata e dove era stata appunto trasferita d'urgenza dopo essere stata recuperata dalla piscina e rianimata proprio sul posto. Chi l'aveva a soccorso aveva seguito le indicazioni del 118 e allora adesso insomma arriva la buona notizia. Parliamo adesso invece della visita del principe Alberto di Monaco dove soggiornerà e come si muoverà il sovrano è ancora tutto top secret ma la macchina organizzativa proprio per accoglierlo in terra a retina è in pieno fermento. Il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è riunito in prefettura e c'è stato un tavolo tecnico in questura. Alberto di Monaco inizierà la sua due giorni proprio sabato pomeriggio e atteso al Santuario della Verna intorno alle 15 e 30. Qui la madre Grace Kelly fu ospite nel 1968 insieme a sua sorella Carolina. Poi domenica giungerà a Rondine per l'incontro con i giovani della World House promotori della campagna Leaders for Peace che ha visto il Principato di Monaco tra i suoi sostenitori. Era stato lanciato dal Nursind l'allarme per quanto accaduto al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo lo scorso 6 settembre. Quando erano mancati 17 infermieri. Oggi arriva la risposta dell'ASL. Il personale infermieristico assente è stato prontamente sostituito ricorrendo alla flessibilità organizzativa e ai turni in attività aggiuntiva con maggiorazione economica. Così l'ASL Toscana Sud-Est risponde a quanto denunciato dal Nursind ovvero la mancanza di 17 infermieri il 6 settembre scorso al pronto soccorso dell'ospedale San Donato di Arezzo. L'azienda sanitaria parla di evento straordinario. Otto le assenze programmate per ferie. Le altre invece legate a malattie, gravidanze e congedi familiari. Una situazione precisa ancora la nota prontamente gestita nel rispetto delle norme contrattuali e senza far mancare i servizi ai cittadini. Al personale sanitario vai da ringraziamento, spiega Vianella Agostinelli, direttrice del Dipartimento delle professioni infermieristiche e ostetriche dell'ASL Toscana Sud-Est di tutta l'azienda per l'impegno e lo sforzo quotidiano. Crediamo che per fronteggiare le sfide della sanità e del personale non sia opportuno alzare i toni. Dobbiamo lavorare tutti nella stessa direzione, cercare di far emergere la prontezza delle colleghe e dei colleghi nel gestire le criticità qualora si presentino. Nove nascite in un giorno, un vero e proprio record, quello segnato nella giornata del 9 settembre all'ospedale Santa Maria della Gruccia in Valdarno. Sono venuti alla luce sette maschi e due femmine. Un lieto evento festeggiato da tutto il personale sanitario dell'unità operativa complessa di ginecologia e ostetricia diretta dal dottor Filippo Franca Lanci. Otto sono stati i parti spontanei, di cui due in vasca nativa. L'ultimo è invece avvenuto con taglio cesareo. Grazie ai colleghi e alle colleghe del pronto soccorso e alla reanimazione del nostro ospedale, abbiamo potuto far nascere in sicurezza la piccola, sottolinea Franca Lanci, e monitorizzare in ambito reanimatorio la gestante. Rimaniamo all'ospedale del Valdarno perché con il programma PIPI la vicinanza solidale tra le famiglie adesso è più concreta. Questa esperienza mi ha arricchito davvero tanto perché non è tanto il dare, ma si riceve, perché sono molto importanti le relazioni che si instaurano con queste mamme e con i bimbi. Per quanto riguarda la mia esperienza, ho accompagnato un piccolino all'asilo nido, quindi mi sono divertita tantissimo e quindi faccio l'appello a tutte le famiglie di poter provare. C'è chi ha già aderito al programma PIPI e rivolge così l'appello anche alle altre famiglie. Si tratta di un progetto di vicinanza solidale con l'obiettivo di contrastare attivamente l'insorgere di situazioni che possano favorire le disuguaglianze sociali, attivo a livello nazionale dal 2011 e da tempo attuato anche nelle zone di stretto dell'Asda Toscana Sud-Est. Si propone di prevenire delle situazioni di allontanamento di minori da casa dalle famiglie che si trovano temporaneamente ad affrontare un periodo di grave difficoltà. Quindi serve ad evitare l'istituzionalizzazione ricercando quelle che erano un po' le risorse anche di un tempo, cioè tipo la vicinanza solidale che con poco però consente veramente talvolta di risolvere dei problemi delle famiglie. Ci sono famiglie che non hanno una rete, che sono da sole nel gestire i loro figli e quindi poter contare su qualcuno che semplicemente accompagna i bambini allo sport, li va a prendere a scuola, li segue un po' nei compiti, può essere una soluzione importante. Nel Valdarno Aretino coinvolge gli otto comuni e al progetto partecipano attivamente col ruolo di sossegno e supporto coppie con o senza figli o persone singole che possono offrire un aiuto nella vita quotidiana. In questo momento come HIP stiamo lavorando con interventi di promozione sul territorio e sensibilizzazione su tutta la popolazione perché molte persone di fatto non sanno cos'è il progetto Pippi essendo presenti fondamentalmente negli eventi che propone il Valdarno. Abbiamo un parternariato molto importante con Scuola Famiglia e poi stiamo organizzando i gruppi genitori bambini che saranno attivi presumibilmente sulla fine di ottobre dove appunto diamo sostegno alle famiglie che appunto vivono momenti di vulnerabilità e che hanno bisogno di un supporto e un sostegno dagli specialisti ma soprattutto dalla rete. Ci siamo occupati nelle scorse ore del caso che era stato sollevato dalla popolazione di Rigutino preoccupata per l'imminente chiusura anche dello sportello bancario di Intesa San Paolo oltre che di alcuni negozi di vicinato. Adesso di questo se ne occuperà anche il consigliere regionale della Lega Marco Casucci che annuncia un atto in regione toscana. Il nostro consigliere comunale di Arezzo dice Casucci Pietro Perticai ci ha segnalato appunto la chiusura di esercizi come quello di Intesa San Paolo ma anche di alcuni supermercati specialmente per le persone più anziane dice Casucci quelle maggiormente penalizzate bisogna evitare che queste chiusure diventino sempre di più generalizzate e numerose. Quindi ho predisposto un atto in cui chiederò alla Giunta regionale di intraprendere tempestivamente azioni specifiche per scongiurare proprio la scomparsa di questi esercizi commerciali. Parliamo adesso invece dei nostri amici animali purtroppo sono sempre di più anche nell'aretino gli abbandoni e allora arriva ferma la condanna dell'EMPA. Erano cani da caccia in un recinto lasciati soli completamente ma nello sporco assoluto direi anche affamati perché ancora non sono ingrassati nonostante insomma il mangiare quotidiano di qui sì direi proprio che sono l'esempio di come quando il cane da caccia non serve più viene trattato o così o ammazzato oppure magari lasciato in mezzo al bosco. Erano stati ritrovati così alle porte della città di Arezzo pelle e ossa ricoperti di pulci sofferenti. Si tratta dell'ultimo caso di maltrattamento che si è verificato nel retino a prendersi cura dei cani adesso dopo il sequestro dei carabinieri forestali sono i volontari del canile gestito dall'EMPA che anche quest'estate però ha dovuto fare i conti con il fenomeno degli abbandoni degli animali domestici e non solo. I casi di maltrattamento direi che la novità il vero abbandono estivo sta cambiando almeno qui da noi nel centro Italia ad Arezzo specialmente il classico cane randaggio è sempre più difficile da trovare o si trovano le cucciolate che però secondo noi comunque sono il risultato o di qualche staffetta andata male o di qualche diciamo vendita andata male ma esiste appunto questo fenomeno dell'abbandono per casi sociali o perché il proprietario è solo e quindi si trova a dover affrontare un periodo di vita magari di ristabilizzazione quindi il cane diventa un problema e deve essere deve essere comunque collocato oppure situazioni di vero e proprio maltrattamento e proprio per quanto riguarda questi ultimi casi l'EMPA intende mettere in campo tutte le azioni possibili per tutelare gli animali sicuramente faremo di tutto è chiaro sono sotto sequestro e si deve aspettare il periodo processuale l'iter processuale però secondo noi questi cani non sono assolutamente da dare quindi con il nostro legale Simona Chiarini faremo tutti i passaggi possibili affinché ci sia una condanna e quindi una confisca dei cani un'altra emergenza è quella relativa ai gattini al canile di via della cella dall'inizio della bella stagione sono infatti arrivate numerose cucciolate abbandonate in vari angoli della provincia i gattini non sono mai mancati e secondo noi è il vero problema diciamo per noi almeno ha sostituito il problema del randagismo classico perché le colonie sono sì sotto controllo tanto è stato fatto perché abbiamo una stanza d'agenza fatta dal comune che funziona benissimo ma abbiamo anche delle diciamo delle situazioni di sterilizzazione che non girano come dovrebbero girare una delegazione dell'amministrazione comunale di Civitella in Val di Chiana guidata dal sindaco Andrea Tavarnesi è stata in visita i primi giorni di settembre nel comune gemellato di Kenfelbach in Germania il gemellaggio nasce nel 2011 e in questi anni sono numerosi i contatti sono stati numerosi i contatti sia personali che culturali tra i due comuni quest'anno in occasione dell'ottantesimo anniversario dell'Ecidio con la visita ufficiale del presidente della Repubblica Mattarella il gemellaggio si è rafforzato siamo felici e dice il sindaco Andrea Tavarnesi di continuare a mantenere saldi i valori che cristallizzano il nostro gemellaggio la diversità di contesti è motivato di grande arricchimento sociale e culturale sette nuovi bus interurbani per il territorio aretino sono arrivati proprio in questi giorni nel parco mezzi di autolinee toscane alla vigilia della riapertura delle scuole e anche insomma un po' della ripartenza diciamo così del lavoro e poi ovviamente l'entrata in vigore dell'olario invernare e scolastico che scatterà il prossimo 16 settembre per questi nuovi autobus è prevista la pedana per agevolare la salita a bordo di persone diversamente abili e avranno anche per quanto riguarda invece in questo caso la sicurezza non solo di chi sale ma anche di chi lavora a bordo di questi autobus di sistemi di videosorveglianza l'acquisto è stato reso possibile grazie ad un cofinanziamento della regione toscana ci spostiamo adesso a Camucia dove è stata presentata l'edizione 2024 di Camucia sotto le stelle un intero weekend a cosporto sotto le stelle a Camucia torna così la manifestazione organizzata dall'amministrazione comunale di Cortona assieme alle associazioni locali le associazioni di categoria del commercio il patrocinio del CONI e del CIP e il sostegno della Banca Popolare di Cortona siamo alla quarta edizione è un evento molto importante per tutto il territorio si parla di sport e di sociale di aggregazione di comunità quindi Camucia vivrà una serata eccellente dove appunto parteciperanno le associazioni del volontariato associazioni sportive i campioni i premiati ma soprattutto la gente e quindi anche il commercio che è importantissimo per la nostra realtà si parte venerdì 13 alle 18 con un programma intenso che permetterà a giovanissimi giovani e meno giovani di entrare in contatto con istruttori operatori e provare decine di discipline sportive diverse e questo è fondamentale perché per una sera riusciamo a vedere quello che è il potenziale della collaborazione tra associazioni sportive amministrazione un intero paese e associazioni di volontariato quindi un grandissimo esempio da ripetere e portare avanti per noi rappresenta un'occasione per far conoscere lo sport anche paralimpico cioè lo sport per i disabili perché lo sport deve essere un diritto per tutti quindi anche con le persone che hanno disabilità deve essere integrazione deve essere l'insieme di persone normodotate come si dice e anche persone con disabilità e tutti insieme a fare sport sarà invece piazza sergardi ad ospitare la cerimonia delle premiazioni premieremo Martina Pagoni per essersi classificata terza ai giochi matematici toscani kangoru premieremo i ragazzi dell'istituto comprensivo cortona 2 per essere arrivati alle finali nazionali degli scacchi scolastici quindi 2024 e UPD Val di Pierle per i 60 anni di attività sabato 14 settembre tornano infine gli intrattenimenti musicali e le proposte gastronomiche dei locali e ristoranti della zona Il Leone del Deserto film sulla resistenza contro l'occupazione italiana della Libia potrà essere proiettato per la prima volta sugli schermi cinematografici italiani e questo avverrà anche ad Arezzo la pellicola non è mai stata proiettata nelle sale italiane perché è ritenuta dal governo lesiva dell'onore dell'esercito che all'epoca ne bloccò la distribuzione l'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti arrivò ad accusare il film di vilipendio alle forze armate la proiezione è stata resa possibile grazie all'iniziativa dell'ONG un ponte per e appunto farà tappa come dicevamo anche ad Arezzo il film sarà proiettato il prossimo 16 settembre alle 18 e 30 al circolo Aurora di piazza Sant'Agostino è iniziata oggi e terminerà il 22 di settembre l'asta benefica indetta da Gioele Meoni atto finale del progetto Dakar for Dakar del figlio del campione Fabrizio Meoni Gioele ha partecipato alla Dakar 2024 in sella alla sua KTM ma la gara non era certo lo scopo grazie infatti alla vendita proprio della moto e anche di un cimeglio molto prezioso che apparteneva al padre Gioele vuole raccogliere fondi per costruire una scuola a Dakar in memoria della sorella Chiara scomparsa prematuramente sentiamo con questo brevissimo video in un posto per me di ispirazione vi voglio annunciare che inizierà l'asta con la quale venderò la moto con cui ho corso la mia Dakar 2024 insieme al casco e soprattutto un cimeglio per me particolarmente importante il mio casco infatti era ispirato al casco che metteva mio babbo quello col cinghiale dietro che poi la Premier ha fatto anche in serie però domani metterò all'asta io e mia mamma abbiamo deciso di mettere all'asta il casco con cui mio babbo ha corso la Dakar del 2004 proprio quello che ha messo lui durante la Dakar e questo per me significa è un evento eccezionale infatti non a caso sono qua su sono in un posto che si chiama la traccia di San Francesco visto lui si privava di tutto per darlo a chi aveva più bisogno e quindi ho detto beh magari mi darà un po' di ispirazione mi farà stare un pochino meno male quando finita l'asta il 22 settembre questi tre oggetti a me molto cari non saranno più insieme a me ma serviranno sicuramente per qualcuno che ha più bisogno infatti il ricavato dell'asta più il ricavato della campagna di crowdfunding che terminerà tra qualche settimana meno il costo della moto saranno devoluti alla fondazione Fabrizio Meoni Ollus tramite l'associazione Dakar for Dakar che ho creato per il mio progetto e che tra poco vedrà il suo culmine il suo termine almeno per quanto riguarda il progetto Dakar for Dakar poi vedremo ciao è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese attenzione arrivederci grazie a tutti